Diventa cromo per 180 secondi totali in una partita singola, allora avete più possibilità di completare l'incarico, quella più facile sarebbe di entrare in uno dei due tornadi, vi consiglio quello qua vicino al Sacrario dell'Araldo perché lo trovate in ogni partita, rimanete qua nel vortice per 180 secondi, quindi 3 minuti avete completato l'incarico. Altrimenti avete la possibilità di atterrare in una località cromata, ad esempio qua vicino al Sacrario dell'Araldo, distruggete poi oggetti cromati, cespugli, alberi, recinti, come vedete trovate poi gli schizzi cromo, raccoglieteli, lanciateli per terra da diventare cromati e aspettate 180 secondi. Grazie a tutti.